buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar su particle works nuova tecnologia meshless di cfd che ha molte molte applicazioni interessanti applicazioni come vedremo nelle prossime slide grazie per essere qui numerosi e appunto vediamo prima di tutto una prima una prima introduzione personale io sono michele merelli ingegneri progetto in engine soft quindi nel gruppo cfd di bergamo e sono anche responsabile del della pre post sale per quanto riguarda particle works europe che è una joint venture tra diciamo lo sviluppatore del software di cui parleremo oggi appunto particle works e engine soft quindi come vedete c'è una forte diretta unione tra appunto chi sviluppa il software e chi poi lo vende e lo rivende e anche diciamo aumenta la consapevolezza rispetto alle possibilità che questo software offre in tutta europa perché appunto ci muoviamo su tutta europa per quanto riguarda l'agenda di oggi quello che vedremo è innanzitutto un'introduzione sulla metodologia e quali sono le feature più importanti della stessa e che cosa contraddistinguono contraddistingue la metodologia mps a quindi a moving particle simulation a gli approcci più tradizionali cfd vedremo poi una serie di applicazioni e di anche validazioni sperimentali dell'uso di questo software per la lubrificazione il raffreddamento di motori elettrici il raffreddamento di pistoni la produzione idroelettrica e poi anche applicazioni nell'ambito del food and beverage e anche diciamo feature avanzate in modo che insomma alla fine di questo webinar di questa di questa ora oretta e mezza abbiate appunto una chiara idea di quali sono le feature del software dove sono i campi applicativi e poi in realtà nella parte finale del webinar di oggi avremo modo anche di aprire il software vi mostrerò insomma il software e in live costruirò un modello abbastanza base di una gearbox per farvi vedere appunto quali sono gli step e anche qual è la facilità di utilizzo del software per quanto riguarda l'introduzione al software stesso il software appunto è un software di fluidodinamica computazionale ad approccio meshless quindi il moving particle simulation quella la metodologia che sottostà a particle works sostanzialmente non richiede appunto la generazione la pre generazione di mesh di calcolo quindi si parte in particle works direttamente dalla geometria la discretizzazione come si vede in questo caso viene effettuata durante il pre processing dal software stesso e di fatto il liquido è una mesh dinamica risolta con un approccio lagrangiano come vedere una prossima slide ovviamente questo tipo di approccio è molto avvantaggioso quando abbiamo molte componenti rotanti come ad esempio in questo caso quando abbiamo fenomeni di splashing dei getti che vanno a impattare la geometria tutti questi fenomeni che con metodologie tradizionali sono ovviamente molto molto difficile a modellare per quanto riguarda le feature abbiamo la possibilità di includere anche allora dei solidi interazione fluido struttura come vedete in questo caso abbiamo un anello in bronzo che va ad essere movimentato dal dall'albero centrale e che va a interagire in modo accoppiato con il fluido stesso però si possono anche includere delle polveri appunto materiali granulari sempre in accoppiamento con col fluido stesso per quanto riguarda appunto un po' di dettagli in più sulle differenze tra i metodi convenzionali basati su mesh e lmps come vedete quindi l'idea è che nelle mps non abbiamo la necessità di creare e di anche preparare la geometria perché diciamo questa fase di mashing possa essere effettuata ma appunto nelle mps ci ritroviamo ad importare direttamente dal CAD la geometria senza problemi di compatibilità in molti casi e il fluido stesso è la mesh di calcolo dinamica che segue naturalmente appunto i fenomeni di splash e quant'altro le equazioni che risolve la metodologia mps comunque sono diciamo quelle classiche navi e stocks e continuità che troviamo nei metodi convenzionali è interessante notare come proprio anche diciamo per l'evento che di cui parliamo oggi come questo approccio sia stato mutuato e trasferito da ricerche universitarie poi applicazioni industriali perché appunto il fondatore uno dei co fondatori di prometic software il professor koshizuka presso l'università di tokyo era appunto ed è tuttora un professore comunque universitario per quanto riguarda il workflow e le differenze di workflow e anche di tempi di calcolo abbiamo con uno schema tra i metodi convenzionali e particle works come notate quindi l'abbiamo già menzionato gli step di generazione mesh non sono presenti con questo metodo e quindi si inizia dopo pochissimo tempo solitamente un'ora o due si può iniziare a setupare la simulazione e a lanciare nel giro di una giornata inoltre la simulazione può essere lanciata su schede grafiche ed è diciamo questo lancio molto favorito perché gli algoritmi di base del moving particle simulation sono altamente paralizzabili e quindi risentono molto di questa accelerazione a gpu dove sulle schede grafico ovviamente abbiamo un numero di core molto elevato e quindi la paralizzazione è molto efficace quindi ci troviamo solitamente da avere comunque tutto il workflow di simulazione in meno di una settimana vedremo anche degli esempi concreti di come su casi applicativi realistici questo si traduca e si ritrovi per quanto riguarda le applicazioni ora vi darò un overview abbastanza generica per poi andare nel dettaglio qua è solo per toccare i vari temi così che capiate insomma come sia anche varia la possibilità di applicazione del software innanzitutto ovviamente è importante menzionare come particle works sia stato utilizzato in passato molto ed è tuttora diciamo uno dei campi applicativi più importanti nell'ambito della lubrificazione di casse cambio casse motore trasmissioni e quant'altro gli aspetti di analisi termica che troviamo in particle works poi permettono di effettuare degli studi di raffreddamento di pistoni e anche di motori elettrici sempre più spesso infatti ci troviamo ad avere clienti che chiedono informazioni e poi usano anche il software per appunto il raffreddamento ad olio dei motori elettrici che è un tema crescente anche perché le power densities di questi sistemi sono sempre più alte per diciamo appunto incontrare le richieste del mercato anche la possibilità di includere una serie di leggi di viscosità tramite particle works quindi possiamo fare delle analisi di rivestimento nel campo del food and beverage con appunto ad esempio qua uno strato di cioccolato che viene steso su una barretta piuttosto che colle cemento anche diciamo grasso tutti questi fluidi possono essere modellati in modo efficace parlando di grasso abbiamo un esempio di lubrificazione di cuscinetti con appunto un fluido altamente viscoso che è sicuramente un altro tema importante abbiamo poi il campo delle delle turbine idroelettrico comunque il campo idroelettrico dove si possono fare delle analisi di intera turbina per analizzare le efficienze o anche studiare la lubrificazione ad esempio in generatori o sistemi connessi con appunto il mondo è idroelettrico c'è poi un altro campo applicativo molto interessante ovviamente che è la gestione di situazioni ambientali a rischio come ad esempio frane o allagamenti quindi tutto il mondo della dell'ingegneria civile ovviamente può trarre vantaggio in modo forte da questa metodologia andando avanti ci sono ancora altre possibili campi applicativi sempre facendo leva sulle feature più importanti del software cioè il fatto che gli elementi rotazione movimento non sono problematici da gestire quindi in questo caso vediamo mixing anche con una dispersione di particelle quindi granulare accoppiata con la componente fluida abbiamo la possibilità di studiare getti che vadano a pulire superficie o anche a sterilizzarle per esempio e poi tutti quei fenomeni di wading quindi l'interazione ad esempio di una macchina o di un trattore con fango o altri elementi diciamo di di contaminazione ambientale esterna anche il wading scusate anche appunto l'analisi di dettaglio di pneumatici che appunto entrano in dei guadi può essere effettuato vediamo ora una serie di casi applicativi più diciamo strutturati e anche conferme sperimentali che si sono collezionate nel corso degli ultimi negli ultimi mesi anni per quanto riguarda la lubrificazione uno dei casi tipici che mostriamo è lo studio di questo di questa coupling gearbox che è stata fatta con comer industries un'azienda molto importante nel settore appunto della trasmissione degli assali e in questo caso si voleva appunto il focus è stato di analizzare questa cassa questa trasmissione per valutare la lubrificazione nelle varie zone della trasmissione stessa a seguito diciamo di variazioni negli rpm quindi nei nei load e quindi nelle velocità di rotazioni e anche nei sensi di rotazione l'obiettivo finale era comparare i risultati sperimentali con risultati della numerici vedremo poi nella prossima slide come questo è stato fatto solitamente quindi in questi casi si effettano delle delle analisi sperimentali di clear casing quindi viene costruito questo sistema questo prototipo che offre alcune informazioni su ad esempio la lubrificazione dei cuscinetti o delle varie zone della trasmissione ovviamente la costruzione la preparazione dei prototipi e dispendiosa in termini di tempi e anche economici e al tempo stesso non offre tutte quelle informazioni che invece la simulazione può offrire perché una valutazione più quantitativa e anche più nel dettaglio di alcune zone non accessibili diciamo visivamente può essere fatta invece con l'analisi numerica in questo caso vediamo una buona correlazione ad esempio tra appunto il clear casing e la simulazione lo si vede bene qui si vede la creazione del film in questa zona i cuscinetti anche internamente nella parte interna qui vediamo invece che in alto l'olio è molto meno quello che è stato fatto quindi è stato collezionare delle valutazioni lubrificazioni su una scala da 1 a 4 nelle varie zone dei bearings per tutti tutte le condizioni di velocità e si può notare come vi siano delle buone correlazioni rispetto a tutte le condizioni testate per quanto riguarda l'applicazione a motori elettrici abbiamo anche qui un importante conferma sperimentale è sicuramente interessante anche delle possibilità quindi termiche il test case di cui parleremo è stato effettuato con riccardo e l'obiettivo di riccardo era valutare la temperatura la distribuzione di temperatura eh all'interno degli avvolgimenti di un motore elettrico eh questa eh questa zona gli avvolgimenti appunto del motore elettrico eh è una delle più critiche eh in quanto per quanto riguarda il riscaldamento e eh l'ottimizzazione delle temperature eh in questa zona eh favorisce o meno eh la vita diciamo del motore elettrico quindi sicuramente è un aspetto cruciale il mantenimento di temperature in un range accettabile per i materiali appunto in esame ehm vediamo quindi quali sono le possibilità in termini di ehm quali sono le possibilità in termini di ehm osservabili che sono che si possono estrarre con particle works diciamo il workflow nel campo dei motori elettrici è il seguente inizialmente si effettua un'analisi della distribuzione dell'olio e poi si mappa eh l'HTC sulle parti di interesse per poi trasferire queste mappe a un solutore termico a un un solutore a elementi finiti per poi estrarre le temperature quindi questo qua il workflow all'interno dell'analisi fluido dinamica abbiamo varie sotto possibilità se vogliamo al varie vari step innanzitutto si possono valutare eh le distribuzioni di flusso all'interno dei canali ad esempio nel rotore eh perché appunto parte del raffreddamento solitamente è eh proviene dal del rotore eh del motore elettrico che poi va con dei getti a raffreddare gli avvolgimenti quindi delle ottimizzazioni delle distribuzioni dei flussi può essere fatta cioè questa questa ottimizzazione può essere fatta con particle works poi si possono anche includere effetti di eh windage eh quindi effetti di come l'aria poi influisca anche sul sulla distribuzione di olio ovviamente eh quella che vedete qua è l'aria il campo aerodinamico che può essere poi esportato comunque letto dalla simulazione ad olio eh successiva e eh diciamo in ultima analisi quello che si può fare è avere una visualizzazione eh della distribuzione di olio eh gli accumuli e insomma fare tutte le valutazioni di fluido dinamica del caso comunque diciamo lo step finale solitamente è la mappatura come vedete in questo caso sul rotore e sugli avvolgimenti la mappatura dell'HTC che appunto come detto viene poi trasferita a un solutore elementi finiti per la distribuzione di temperature per quanto riguarda le valutazioni della temperature eh con i risultati sperimentali ehm come detto Riccardo eh desiderava valutare in sei differenti punti eh la distribuzione di temperatura sugli avvolgimenti e l'obiettivo eh era di rimanere in un range tra il simulato e il misurato di cinque gradi. Quello che si è visto è che eh per tutti i punti eh tutte le termocopie poste sugli avvolgimenti eh in realtà eh per tutti questi punti il massimo eh gap tra sperimentale e eh numerico è di 2.8 gradi quindi eh quasi la metà del gap desiderato da Riccardo e vedete qui comunque come eh ci avviciniamo anche a un grado comunque siamo anche sotto i due gradi per alcuni dei data point. Particolurex è anche usato in applicazioni di piston cooling vedremo una serie di eh esempi e di progetti eh con la prossima slide eh anche qui ci sono vari eh paper available pubblicamente che sono disponibili pubblicamente. Eh un primo paper eh storicamente disponibile è eh questo studio fatto con Varsila eh azienda che produce motori navali quindi motori di grande dimensione e anche qui anche in questo caso si è fatta un'analisi della eh abilità di predire temperature eh paragonando i risultati numerici allo sperimentale con delle buone correlazioni anche quindi appunto su dei pistoni di grande dimensione. HPE Cox ha anche anch'esso presentato di recente eh un paper dove si eh in questo in particolare qui si paragonava eh sia la precisione ma anche i tempi di preparazione modello e tempi di calcolo eh tra eh particle works e eh star CCM. In questo caso eh le conclusioni sono state che eh l'MPS eh approccio meshless è circa dieci volte più veloce eh di un approccio a mesh di fluidodinamica computazionale. Qua vediamo sempre per quel progetto un esempio appunto della visualizzazione che si può ottenere dei getti e qua due che vanno a impattare la il pistone e vanno poi nel caso anche ad accumularsi in galleria e a raffreddare il il pistone stesso. Un altro cliente che ha pubblicato di recente rispetto all'utilizzo di particle works è ducati ducati corse eh vediamo nella prossima slide qual è stato eh il loro approccio e qual è stato il loro focus. Ducati usa anch'esso appunto un particle works per estrarre mappe di HTC e valutare eh le zone di di utilizzo le temperature di lavoro del pistone e eh in particolare ha anche affrontato degli studi di ottimizzazione o di valutazione di modifiche eh dei getti entranti nel pistone. Eh vediamo qui appunto quattro mappe eh di HTC eh del pistone stesso a parte inferiore eh per quattro configurazioni diverse di getto quindi qua si sono fatte eh rispetto a un reference point si sono proposte altre tre configurazioni di getto con direzioni o portate differenti anche con degli split di getto come si vede nell'immagine per valutare se si potesse o meno migliorare il raffreddamento del pistone stesso. Abbiamo poi il campo dell'idroelettrico della produzione di energia idroelettrica. Qui eh un paper disponibile è eh con Zeko, sta azienda che appunto produce eh tra le altre cose anche turbine eh Pelton idroelettriche. Zeko ci ha contattato e ci ha chiesto di eh analizzare la fattibilità dello studio di eh queste turbine eh con particle works eh si stessi usano eh fluidodinamica più tradizionale per altre applicazioni però eh facevano notare alcuni limiti eh di dei metodi tradizionali per questo caso, il caso di cui vi parleremo oggi, in particolare eh ci sono c'erano una serie di desiderata che non non erano mh diciamo valutabili con metodi tradizionali ad esempio uno studio a multijet quindi con due eh getti eh sulla sulla turbina come in molti sistemi succede nel metodo tradizionale si può solo analizzare un getto eh non si possono fare analisi di interazione tra il casing della struttura e i getti stessi eh e inoltre eh comunque facevano notare come i tempi di preparazione modello e la complessità anche del setup eh fossero tali per cui mh diciamo questo i metodi tradizionali non non erano compatibili, non sono tuttora compatibili con le richieste anche eh del workflow di R&D quindi diciamo in un sistema industriale eh cioè in un workflow industriale eh non c'è ad ora per Zeko un non c'era per lo meno prima dello studio con ParticleWorks eh una metodologia di CFD compatibile appunto con con i tempi necessari di sviluppo quindi quello che abbiamo fatto è stato costruire questo modello eh in questo caso appunto differentemente da eh l'approccio tradizionale si effettua uno studio di turbina eh completa non c'è necessità di eh dividere suddividere la turbina in modo da appunto fornire dei tempi di calcolo ragionevoli qua abbiamo i due getti abbiamo comunque interazioni a lungo raggio tra il getto e la turbina stessa e nel caso ci fosse un casing ovviamente anche col casing quindi tutti quegli aspetti che con i metodi tradizionali per questo caso applicativo non erano valutabili e qui appunto abbiamo un esempio anche della visualizzazione abbiamo le velocità e le pressioni il campo di pressione chiaramente influenzato dal dall'interazione con eh con i cucchiai della della turbina e per quanto riguarda eh un riassunto delle eh dei tempi di calcolo e di preparazione e anche di quello che può essere osservato o meno eh abbiamo questa tabella come vedete eh lo cominciavamo nelle primissime slide della presentazione comunque qua abbiamo un caso applicativo eh come vedete i tempi di preparazione modello e anche di post processing sono molto veloci per ParticleWorks si passa da tre giorni a due ore per la preparazione il post processing è simile nei tempi e anche però il tempo di calcolo è molto molto ridotto si passa da settanta ore a eh un paio d'ore inoltre con la metodologia MPS abbiamo la possibilità di studiare tutta la turbina mentre mh con il metodo tradizionale solo quattro mezzi cucchiai erano analizzabili e appunto non si possono effettuare quelli gli studi di eh analisi completa multijet interazione jetty casing e quant'altro la eh al di là di queste differenze che appunto fanno preferire ovviamente questo metodo eh ai metodi tradizionali vediamo come eh diciamo la la differenza tra il l'efficienza calcolata e quella teorica è molto simile e comunque in un range accettabile per lo sviluppo di questi sistemi abbiamo anche la possibilità di applicare ParticleWorks nell'ambito del food and beverage avremo modo di vedere una serie di eh applicazioni eh il motivo ovviamente eh è sempre legato alle feature di ParticleWorks eh l'approccio meshless eh per quanto riguarda il riempimento ad esempio di bottiglie eh è molto eh è molto vantaggioso eh perché appunto tutti i fenomeni di getti e di splashing sono facilmente gestibili la semplicità della definizione del del anche della movimentazione delle ad esempio sempre nel caso della del riempimento di bottiglie quindi la facilità dei boundary condition sulla sul spostamento delle bottiglie l'analisi dello sloshing seguente a questo spostamento ad esempio sono altri temi eh aspetti che facilitano eh l'analisi con ParticleWorks abbiamo la possibilità ovviamente di modellare i fluidi non newtoniani quindi eh vari eh vari composti eh vari alimenti possono essere studiati e inoltre appunto anche l'analisi termica che eh possibile con ParticleWorks permette ad esempio la valutazione di sterilizzazione di alimenti o di contenitori ovviamente per quanto riguarda il bottle filling quindi il riempimento di bottiglie vediamo qua un esempio una visualizzazione giusto per farvi capire un po' ehm anche qui cosa si possa vedere e darvi anche qualche esempio visivo eh qui vediamo eh con il surface rendering che viene fatto nella seconda parte del video vediamo anche l'inclusione di bolle o comunque la possibilità di valutare eh appunto dei riempimenti e la fine degli stessi quindi valutare se vi siano delle turbolenze o delle delle zone con con aria con intrapolamento di aria. Ok poi abbiamo anche la possibilità ad esempio di studiare la sterilizzazione di formaggio ad esempio in questo caso abbiamo preso una tipologia di alimento che potrebbe essere sterilizzata eh sterilizzata qui abbiamo un esempio molto basilare comunque abbiamo un un getto che ricade eh sul sull'alimento stesso possiamo fare delle valutazioni di accumuli di di fluido eh in alcune zone possiamo anche includere degli degli airfield quindi comunque dei getti di aria esterni per la rimozione del fluido da zone non indesiderate eh questo è un'altra cosa che può essere fatta ovviamente e eh diciamo l'obiettivo qua eh sarebbe valutare la distribuzione di temperature e eh e anche le superfici bagnate a seconda di un cioè ottimizzando nel caso un determinato eh design di jet anche eh sistemi come eh questo questo estrusore per la produzione di olio da semi può essere eh studiato in questo caso quindi il materiale granulare sono dei semi che a seguito di pressurizzazione eh diciamo eh vanno a rilasciare degli oli quindi eh nel caso si voglia ottimizzare la pressione che si sviluppa all'interno eh eh all'interno di questo sistema ovviamente può essere fatto questo studio con con particle works si possono fare anche valutazioni di torque valutazioni di efficienza di mescolamento e eh analisi anche degli stress di von Mises per esempio in ultima analisi parleremo eh prima di passare alla live demo parleremo di alcune eh opzioni avanzate alcune feature del software che potrebbero essere interessanti per i vostri possibili casi applicativi innanzitutto abbiamo sì qui abbiamo una lista di quali sono le principali feature aggiuntive di particle works abbiamo un finite volume method eh airflow solver quindi un un solutore elementi finiti per quanto riguarda il campo aerodinamico integrato in particle works che può essere accoppiato al 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 campo eh fluido abbiamo l'interazione tra fluido e struttura come già vi mostravo nella primissima slide eh quindi la possibilità di modellare eh solidi con sei gradi di libertà eh all'interno di particle works abbiamo poi la possibilità di automatizzare con python tutti tutti gli step della della simulazione della preparazione al post processing e poi abbiamo anche la possibilità di utilizzare eh un tool eh in grado di fare dei rendering visivamente molto accattivanti delle dei risultati di simulazione per quanto riguarda il finite volume metodologi vediamo qui un esempio eh proprio di di questa nuova metodologia che è stata rilasciata proprio di recente l'idea è di avere dove vedete in blu eh sostanzialmente eh abbiamo il diciamo il il campo aria risolto con eh una metodologia a piso eh a elementi finiti il campo aria va a influenzare in modo accoppiato eh cioè in modo accoppiato nel senso che sia l'aria influenza ovviamente il fluido ma anche il fluido influenza l'aria quindi c'è un coupling two way eh l'aria va ovviamente interagire con col fluido e vediamo qua chiaramente in questo scusate in questo in questo caso che è abbastanza anche familiare a tutti noi eh lo svuotamento di una bottiglia vediamo come è eh catturato in modo molto eh realistico eh la formazione di eh di bolle per l'aria che appunto va ad entrare e va anche a rallentare lo svuotamento della bottiglia stessa fino a quando diciamo questo questa formazione di bolle dinamica non avviene più e quindi diciamo l'aria il fluido può uscire tranquillamente per quanto riguarda l'interazione fluido struttura eh ad esempio nel caso della eh turbina Pelton si potrebbe fare l'ipotesi che eh la turbina non è messa in rotazione secondo una legge oraria nota ma la la rotazione è indotta dal getto stesso e quindi quello che si fa è assegnare eh appunto e discretizzare il solido eh con particelle eh e quindi avere un un solido con sei eh gradi di libertà che interagisca in modo diretto con col fluido stesso quindi qua abbiamo un perfetto accoppiamento fluido struttura appunto effettuato in particle works qui abbiamo il campo di velocità in Y quindi la direzione di eh incidenza del getto e si vede chiaramente insomma come eh la rotazione si è indotta dal dal getto stesso. Per quanto riguarda l'automatizzazione con Python quello che eh si può fare sostanzialmente è eh costruire in modo automatico la scena che vedete qua che è anche quella che andremo a ehm comporre eh nel live demo e si può raggiungere questa configurazione con appunto l'import geometrico la definizione delle rotazioni la definizione anche delle proprietà grafiche dei vari elementi ma anche tutti gli input numerici di eh physical properties se vogliamo quindi di proprietà del fluido e dell'aria ecco tutti questi step possono essere fatti con uno script e quindi lanciando in pochissimi secondi eh questo è possibile in quanto eh particle works gli sviluppatori di particle works hanno scritto un modulo di python proprio pensato per particle works quindi eh non viene effettuato cambiando il file o editando i file eh quanto proprio facendo riferimento al modulo e quindi alle funzioni implementate nel modulo python scritto dagli sviluppatori quindi sicuramente una diciamo un semplice modo di trasferire il il trasferire appunto il dallo script la la simulazione eh non si può solo diciamo preparare la simulazione si può anche lanciare e si può fare del post processing sulla simulazione stessa in questo caso ad esempio abbiamo eh la possibilità avevamo abbiamo fatto eh un'analisi eh un'analisi che poi è stata post processata con dei probe dei video eh anche dei le distribuzioni dei torque quindi valutazioni delle perdite dovute all'interazione con l'olio e poi in questo caso abbiamo anche generato per esempio un report powerpoint che integrasse eh tutte queste informazioni eh di post processing per quanto riguarda il visualization option questo appunto è il il software che permette eh di muo di di trasferire eh i risultati della simulazione a un software di eh grafica 3D come ad esempio Blender o Unity quindi a seguito di questa conversione poi ci ritroviamo eh nel software di computer grafica che ci permette di fare dei rendering molto realistici per avere quindi dei risultati di simulazione più eh presentabili o anche utilizzabili con finalità di marketing o anche per avere una migliore rappresentazione di quello che è il sistema anche per una migliore eh analisi dei risultati fluido dinamici se vogliamo anche perché non è solo il video l'output che si può ottenere da questi software ma è anche eh diciamo un modello accessibile con la realtà aumentata quindi sicuramente eh pensando al futuro e pensando agli sviluppi che si stanno avendo in questo campo sicuramente interessante eh poter accedere con un visore eh ad esempio Oculus ai risultati sperimentali eh scusate risultati numerici di simulazione per quanto riguarda la presentazione siamo quasi eh sul finire eh volevo solo eh prima di passare alla live demo eh avvisarvi anche di questo interessante webinar anche qui sempre per il fatto che eh è in collaborazione con un'università importante ovviamente che eh riferimento in tutta Europa nell'ambito eh dell'ingegneria dell'ingegneria meccanica eh questo webinar è eh tra circa una settimana il martedì prossimo se non sbaglio il 18 maggio eh nel pomeriggio alle 3 e se siete interessati si parlerà appunto di valutazione dei delle perdite eh eh all'interno di una eh di un electric drive unit eh e si faranno appunto le valutazioni su come legare i risultati sperimentali o come confrontare i risultati sperimentali a quelli che invece sono i risultati solitamente ottenibili con eh apparati di testing e eh di prototipi quindi se siete interessati vi invito a andare sul sito particleworkseurope.com nella sezione eventi troverete il form di registrazione prima di eh passare alla demo eh chiederei se ci sono delle domande eh magari di iniziare a farle ora se sono delle curiosità rispetto a quanto ho visto eh così che poi invece una volta risolti tutti i dubbi o tutte le curiosità possiamo poi vedere il software e vedere appunto quali sono qual è il suo utilizzo quindi dovrebbe esserci una chat se voleste scrivere appunto una domanda poi eh potremo appunto rispondere spero vi sia stato chiaro ok in questa seconda parte eh vedremo la diciamo la costruzione vediamo il software l'interfaccia grafica e vediamo anche come costruire un modello base di gearbox questo qua è il modello a cui puntiamo eh è composto da eh downcasing, downhousing e da alcune eh da alcuni ingranaggi che vanno a mesciare allora quello che vedete qui appunto il software abbiamo una zona di visualizzazione del modello stesso un player per controllare anche i risultati nella stessa nella stessa interfaccia grafica qui a sinistra abbiamo il progetto all'interno del quale all'interno del quale si trovano tutte le nostre simulazioni quindi l'idea di queste scene è praticamente di avere magari simulazioni con diversi particle size o diverse modifiche geometriche ad esempio se in questo caso volessimo cambiare partendo da una simulazione base eh il casing per includere una non lo so un qualsiasi elemento geometrico eh potremmo tranquillamente duplicare questa scena base e e appunto includere le modifiche del caso abbiamo qui i modelli appunto che sono già stati importati in realtà ora io andrò a creare una scena dal al una scena vuota per far vedere appunto come comporre il tutto una volta creata la scena abbiamo solo un dominio di simulazione che è questo qui questo dominio è all'interno del quale è il box all'interno del quale le particelle possono esistere quindi e quindi anche il fluido può esistere se appunto non mi ricordassi di aumentare eh il dominio in modo da includere tutto il casing sostanzialmente effettuerai un'analisi fluidinamica solo in una zona di di casing al tempo stesso se io volessi rimuovere dopo una certa eh zona eh il fluido perché non sono più interessato ad esempio un fluido che va in un canale ma non sono più interessato a studiare quel quel canale quel il fluido che va in quella zona posso facilmente adattare ridurre aumentare eh la zona di calcolo quindi anche la mesh se vogliamo di di calcolo sempre parlando eh brevissimamente del del posizionamento delle varie eh delle varie cose nella gui eh in alto abbiamo tutti i tasti soliti di creazione progetto di salvataggio progetto e quant'altro abbiamo due tasti per controllare gli aspetti numerici e anche il run della simulazione e poi tutti gli strumenti di post processing eh appunto di particle works qui nell'outline nella fase di input avremo gli elementi geometrici gli inflow eh i piani di riempimento e quant'altro anche la gravità abbiamo poi una serie di sottocartelle dove abbiamo il post processing i risultati quindi le particelle piuttosto che altri risultati che vengono generati durante la simulazione e una serie di altri aspetti insomma più di dettaglio che eh al momento non abbiamo tempo di coprire in basso poi se selezionasse ad esempio il dominio posso controllare i keyframe eh di posizionamento del del lumino stesso o anche le proprietà hm geometriche di posizione e rotazione ma anche di visualizzazione eh dei vari elementi geometrici importati ok questo è più o meno tutto rispetto all'overview della eh eh dell'interfaccia grafica eh quello che andremo a fare innanzitutto è importare i eh vari poligoni i vari elementi geometrici quindi allora eh per quanto riguarda i modelli questi sono gli stl esportati direttamente da dal CAD file di superficie questi sono i file tipici con cui lavoriamo in particle works quindi bisogna solo appunto esportarli nel formato corretto non è stata fatta nessuna modifica sugli stessi il dominio lo aggiustiamo in modo da includere tutto in realtà sicuramente in questa zona non ci sarà eh fluido però diciamo anche l'inclusione di questa zona non va a complicare o rallentare la simulazione perché particelle non non vengono generate all'esterno del casing e quindi non sono presenti quindi una volta importati i vari elementi possiamo analizzarli c'è l'housing qui che può essere nascosto o messo in trasparenza magari e poi ci sono diciamo una serie di due alberi e due ingranaggi separati ok quindi eh andando per step quello che dobbiamo fare una volta importata la geometria è innanzitutto definire un piano di riempimento che sarà il piano al di sotto del quale eh il fluido viene inizializzato quindi l'inizializzazione del fluido viene eh effettuata anche all'interno del software senza l'estrazione di dominio fluido questo può semplificare ulteriormente la fase di preprocessing il la direzione del fil sarà y negativa e poi se vogliamo posizioniamo l'origine in una zona dove ovviamente il fluido può essere ok questo qua il fil quindi avremo un avremo olio tutto sotto il piano di riempimento eh l'analisi anche dei volumi generati eh al di sopra o al di sotto di un determinato piano eh è già un'analisi che in molti casi è difficile da fare con altri strumenti quindi sarà già un primo risultato della simulazione cioè dire quale volume corrisponde a questo piano di riempimento ok senza spostarlo ok un'altra cosa che dobbiamo fare ovviamente definire i le proprietà fluide allora eh la proprietà eh fisiche scusate andremo a creare un fluido e un polygon una boundary condition non slip o non slip mentre il solid che vedete qua sarebbe invece un un solido con sei gradi di libertà mentre il powder invece è un elemento granulare il polygon non deve essere cambiato nelle sue proprietà per ora perché non non effettueremo un'analisi termica in questo caso quindi può essere radiabatica come superficie il fluido invece diciamo per per essere più realistico non mettiamo l'acqua ma mettiamo eh dell'olio che ha una densità di 850 metterò solo valori che è abbastanza standard per l'olio ok questo è 55 tensione superficiale e poi cambiamo anche l'angolo di contatto eh che non è 90 gradi ma più un 20 25 gradi eh per l'olio su queste superfici ok se non sbaglio ho fatto tutto qui quindi una volta create le proprietà fisiche si assegnano a ai vari elementi così che si attivino praticamente per la fisica prima erano solo elementi geometrici presenti nella visualizzazione ora che sono attivi per la fisica verranno discretizzati durante la fase di preprocessing discretizzate con delle funzioni che si chiamano distant function che dicono dove il fluido può stare e dove non può stare e anche descrivono ovviamente l'interazione tra fluido e la struttura dobbiamo ora mettere in rotazione gli elementi vediamo come sia molto semplice anche questo nascondiamo il film magari allora lo shaft in input eh per quanto riguarda le rotazioni eh andiamo a definire sui keyframe una rotation la l'axis l'asse di rotazione z e schiacciando più abbiamo un modo attivando gli RPM abbiamo un modo di ehm definire la sua velocità di rotazione 1520 RPM in questo caso quindi in teoria ora come vedete eh possiamo già visualizzare la rotazione di quell'elemento l'out molto similmente 001 RPM l'out è eh in realtà eh sì eh meno 955.439 RPM quindi anche l'out ruoterà ruoterà in realtà intorno a un centro che va ridefinito su properties posso ridefinire col suo baricentro il centro di rotazione ruota gear 3 è in realtà accoppiata all'elemento che abbiamo appena messo in rotazione quindi posso fare un parent del shaft out e anche anche lui anche lei ruota adesso questo ingranaggio anche lui ruota e poi ci manca la gear 4 che ha una velocità di rotazione leggermente inferiore rotation 001 più angolo no RPM ok scusate questa fase un po' tediosa 0 0 secondi parte subito senza rampa a meno 516.8 RPM dobbiamo anche in questo caso ridefinire il centro di rotazione e siamo a posto qui abbiamo quindi definito tutte le proprietà di rotazione aggiustiamo solo la camera un attimo ok bene questo è quello che dobbiamo fare ora in realtà solo un paio di modifiche di aspetti numerici avanzati che vanno fleggati e poi andiamo sui su tutti gli altri aspetti numerici ok come vediamo le rotazioni sono in linea bene ora passando agli aspetti numerici apriamo la tab diciamo la finestra del controllo numerici cambiamo le unità di misura che sono in realtà solo unità di misura di visualizzazione il particle size diciamo su questo laptop che sto usando in questo momento è meglio tenerlo un po' alto la direzione della gravità è y negativa poi diciamo possiamo definire tutti gli aspetti di di pressione di pressione che in questo caso è esplicito c'è una speed of sound di 50 metri al secondo che non è la speed of sound fisica ma è una speed of sound numerica questi sono dettagli che magari al momento possono sembrare un po' scuri però diciamo se ci sarà modo di collaborare ovviamente spiegheremo e andremo più nel dettaglio per ora vogliamo solo dare un'idea della velocità anche di setup possiamo attivare il solutore esplicito in questo caso di viscosità un solutore del surface tension per la tensione superficiale e poi nel caso si può attivare turbolenza il solutore termico e quant'altro per ora non non lo facciamo si mette il finish time di simulazione cioè quanto vogliamo simulare potremmo ipotizzare due secondi e il dt il dt di simulazione quindi il time step ok poi questo file output interval time è praticamente la frequenza di salvataggio dei risultati o meglio di fotografia dei risultati che riusciremo a vedere nella nella scena qui quindi ogni centesimo di secondo avremo modo di vedere il risultato e dove sono le particelle allo stesso modo anche ogni centesimo di secondo avremo la possibilità di accedere al al torque su tutte le i vari elementi geometrici questi sono i settaggi base posso fare il pre process e la simulazione nel caso lanciando anche su gpu però ripeto sono su un un laptop quindi potrebbe non essere ideale vediamo se mi sono ricordato tutto o se manca qualcosa con qualche errore però dovrebbe essere dovrebbe essere tutto a posto come vedete ora sta effettuando il pre process che è la quindi sta discretizzando scrivendo queste questi punto di f file sta discretizzando le gli elementi geometrici che abbiamo attivato per la fisica e quindi sta creando queste distance function queste funzioni che descrivono dove sono i solidi sostanzialmente e come interagiscono con col fluido stesso quindi diciamo c'è una mesh che viene effettuata sul fluido perché verrà discretizzato con un una griglia cartesiana e al tempo stesso viene discretizzata la parete in questa fase di pre processing una volta finito invece partirà la simulazione e avremo modo di capire il volume generato sotto quel piano e anche iniziare a vedere i risultati attendiamo solo un attimo ok il pre processing è terminato abbiamo generato 280.000 particelle e quindi possiamo potremmo anche calcolare velocemente dato il particle size la dimensione di particelle il volume generato e questa è già la visualizzazione vedete appunto il fill di fluido ed ora la simulazione sta girando con un determinato di t è durata 30 secondi però l'ha simulato un millesimo di secondo insomma si tratta solo di attendere un po' per ottenere poi dei risultati che possono essere post processati in vario modo il fluido ora è nei risultati come vedete le particelle sono nei risultati invece il fill che è l'elemento geometrico che ha generato quelle particelle è qua sopra le particelle di risultato possono essere colorate con una color map che in questo momento è ovviamente non significativa la color map la possiamo controllare con quest'altra finestra per quanto riguarda se possiamo avere la velocità la pressione la temperatura quant'altro anche l'HTC nel caso l'avessimo attivato insomma si possono fare una serie di considerazioni di post processing si potrebbe fare un rendering di superficie una mappatura delle proprietà fluide sulle pareti potremmo fare degli screenshot dei video anche fare delle pathline del fluido stesso cioè selezionare delle particelle e costruire pathline di provenienza di quelle particelle stesse valutazioni di flow rate di probe quindi valutazioni di volume in determinate aree proprietà e quantità fisiche in determinate aree e quant'altro intanto allora questo in realtà è tutto quello che volevo mostrare rispetto agli step di simulazione come vedete appunto in modo molto veloce e celere abbiamo definito rotazioni partendo da stl facilmente generati da un cad abbiamo messo in rotazione appunto tutto senza complessità aggiuntive abbiamo generato un fill di fluido anche qui in modo abbastanza veloce semplicemente definendo una direzione e un'origine e ci ritroviamo appunto a simulare e a visualizzare anche i risultati in uno stesso software in una stessa interfaccia grafica in live anche perché appunto non appena poi i risultati inizieranno ad essere collezionati si può iniziare a fare una valutazione dei risultati di simulazione e anche fare del post-processing temporaneo ci sono delle curiosità e domande mentre aspettiamo magari il primo risultato ora appunto sto dando anche un particle size abbastanza grossolano perché lo scopo è semplicemente mostrarvi tutti gli step e in più appunto ci impiega anche un po' questo computer però nel frattempo ci sono sono arrivate altre domande rispondo molto volentieri possiamo continuare le discussioni anche avviate e se no appunto aspetterei giusto il primo risultato e vi ringrazierei appunto di della vostra attenzione ne hai una in coda pronti allora devo ritrovare questions ok allora sempre relativamente alla domanda la domanda è in questo momento stiamo investigando esclusivamente l'effetto che il sistema rigido ha sul fluido c'è modo di fare una simulazione accoppiata in cui si può valutare l'effetto del fluido sulla dinamica del sistema direi di sì direi di sì tranquillamente nel senso che ad esempio nel caso di wading se vogliamo prendere un esempio che potrebbe essere di interesse in quel caso quello che si può valutare sono le forze che il fluido applica alle varie facce alle varie alle varie componenti della macchina che entra nel guado quindi sono tutte queste informazioni facilmente trasferibili da ParticleWorks poi a altri software comunque informazioni estraibili dal software stesso nel senso che come detto ognuno degli elementi geometrici che vedete qua ha ad esempio lo shaft out questa qua è la distant function di cui vi parlavo cioè quella funzione che descrive dove le particelle possono stare o dove no se io faccio right click qua vedo show load torque plots quindi posso anche direttamente posso anche direttamente plottare ad esempio le forze nella direzione z per esempio non lo so faccio un'ipotesi su quella componente lì e ovviamente quando ho dei risultati li vedrei spero di aver risposto alla domanda abbiamo un'altra domanda che chiede le geometrie importate sembrano essere state ripulite e non geometrie di produzione che lavoro preliminare bisogna fare sul modello in realtà allora diciamo in questo caso probabilmente il benchmark è fatto anche di geometrie molto semplificate anche per motivi di confidenzialità per esempio in realtà quello che si deve fare dal CAD anche di produzione per avere una simulazione è semplicemente dividere le componenti in modo tale da avere per ogni componente che ruota o si muove di una legge propria un STL ok quindi c'è bisogno di riarrangiare le componenti in modo che ci sia questa divisione per quanto riguarda la semplificazione delle geometrie diciamo se non per geometrie molto molto grandi come ad esempio non lo so il modello completo di un camion con varie viti ovunque se non per questi casi estremi mi sento di dire che non c'è veramente necessità di fare pulizia del CAD si possono includere viti bulloni feature anche di dettaglio cuscinetti non bisogna tendenzialmente affrontare questo tipo di discorso semplicemente separare gli elementi che ruotano o che si muovono con leggi diverse questo è quello che si fa solitamente ripeto questo è un caso molto semplificato parzialmente anche confidenziale quindi confidenziale la geometria probabilmente di base non quella che vediamo qua quindi in questo caso per un training cioè questo è un materiale di training base non si usa ovviamente una geometria di produzione quindi la vedete semplificata probabilmente anche per quello spero di risposta al momento non vedo altro ok perfetto allora questo è appunto quanto volevo mostrare oggi abbiamo scusate abbiamo anche nel frattempo ottenuto il primo risultato che vedete qua non abbiamo modo di andare troppo nel dettaglio sul post processing in questo momento anche perché non sarebbe molto interessante su un solo frame di risultato comunque l'idea spero che sia passata per quanto riguarda quindi i next step sappiate appunto che siamo contattabili a queste mail l'ho visto che qualcuno l'ha già fatto siamo disponibili a rispondere ad ulteriori curiosità e anche investigare possibili applicazioni con voi questi sono i contatti vi ricordo anche il il webinar di settimana prossima che potrebbe essere di vostro interesse e il sito internet dove trovate non solo gli eventi ma anche validazioni i paper che abbiamo visto oggi quindi se siete interessati a qualche dettaglio abbiamo una ventina quasi di paper e di case studies su varie applicazioni che potete visionare sul sito stesso quindi se non ci sono altre domande vi ringrazio per l'attenzione e la curiosità che avete mostrato per il il webinar di oggi e vi rimando ai prossimi eventi vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio l'attenzione vi ringrazio